Il settore delle biciclette in Italia è uno dei settori più importanti dal punto di vista produttivo. Siamo i primi produttori al mondo, proprio dopo il bonus biciclette siamo cresciuti diventando il primo produttore al mondo e il secondo esportatore a livello mondiale di biciclette, con un incremento tra l'altro di elementi economici che viaggia oggi oltre i 2 miliardi, 2 miliardi e 2 su base anno. Si terrà domenica 17 settembre con partenza alle 10 dalla riviera di Chiaia nei pressi di Villa Pignatelli l'iniziativa Più Bici, Più Felici e l'evento per incentivare l'uso della bicicletta nei centri urbani favorendo contemporaneamente rispetto dell'ambiente e attività fisica. Con l'uso delle bici ovviamente noi possiamo diminuire il traffico, diminuire lo smog in città e quindi, come dice stesso la frase, più bici più felice, in quel caso noi veramente saremo più felici andare in bicicletta. Promossa dal Comitato Ambientalista Terra Dea, la passeggiata sarà aperta a tutti adulti e bambini e costituisce un'occasione per sensibilizzare i cittadini a soluzioni di mobilità sostenibili in grado di decongestionare le aree urbane che soffrono livelli di inquinamento allarmanti. È un dato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che 60.000 decessi per la scarsa qualità dell'area si sono solamente in Italia ed è un impegno assunto a Bruxelles di modificare il trasporto pubblico che sia slow, lento, dolce, quindi metropolitane, quindi autobus green, quindi anche biciclette. Il percorso prevede l'attraversamento della villa comunale fino alla pista ciclabile sul lungomare ed un passaggio in piazza del Plebiscito con arrivo a piazza Municipio e ritorno. Coloro che vogliono venire domenica 17 settembre alle ore 10 e non hanno la bici possono fittare la bici da Sara Marrucci con solo 6 euro. Vi invitiamo a contattare Marea Incoming che sponsorizza parte del noleggio, prenotate la bicicletta e avrete la possibilità di partecipare a una bella passeggiata con relax sul mare. Io invito tutti davvero a partecipare a questa maratona che si chiama Più Bici, Più Felici che naturalmente non è una maratona ciclistica competitiva ma possono partecipare tutti. Saranno pochi chilometri dall'altro pochi chilometri da fare in un lungomare che è spettacolare che racconterà tutta la bellezza della nostra città ed è un altro tentativo di far comprendere come Napoli può diventare capitale europea dello sport per il 2026.